Dall'11 al 17 marzo si tiene la settimana internazionale del glaucoma. Con Alberto Munghi, consigliere dell'Unione Italiana Ciechi di Vercelli, vogliamo sapere in che cosa consiste la vostra attività in questa settimana molto importante. La settimana di prevenzione del glaucoma è un'iniziativa realizzata dall'Agenzia Internazionale di Prevenzione della Cecità, detta IAPB, che organizza per l'Italia tutta la prevenzione per la malattia del glaucoma, una malattia importantissima perché è asintomatica, quindi se non accuratamente analizzata con la prevenzione, diagnosticata con la prevenzione, è veramente difficile sapere di averla. Nella settimana di prevenzione del glaucoma, l'Unione Italiana Ciechi di Vercelli ha l'obiettivo principale di sensibilizzare proprio verso questa patologia e verso l'attività di prevenzione. Noi realizzeremo proprio visite in SEPA che la facciamo già tutto l'anno. Noi gli ultimi giovedì del mese, di ogni mese, presso il nostro centro di riabilitazione visiva, vengono realizzate proprio le visite di prevenzione e di screening. Quindi è un'attività che noi realizziamo con orgoglio tutto l'anno in collaborazione con l'ASLE. In questa settimana diciamo che un evento importante, l'evento clou, è una cena al buio. Sì, è un evento cui noi teniamo in particolare, non è sicuramente l'evento di prevenzione, ma è come dicevo l'evento di sensibilizzazione. È un appuntamento importante che noi cerchiamo di realizzare tutti gli anni e veramente molto particolare perché avvolti totalmente nel buio si potranno gustare piatti, bere, quindi vivere proprio tutta l'esperienza di una vera e propria cena servita da non vedenti, interamente gestita da loro, in cui proprio tutti i sensi, il tatto, il gusto, l'udito, verranno sviluppati in maniera particolare perché proprio è mirata a stimolare tutte quelle attività private, chiaramente, della vista. Chi volesse iscriversi alla cena, come può contattarvi? Ci può telefonare allo 0161 25 35 39. E la cena sarà quando e dove? Allora la cena sarà venerdì 16 marzo, alle ore 20, alla Cascina Rantiva, alla Cade del Mario Bell, Comitato Vecchio Portacasale. Grazie a tutti.